Non mi definisco di certo come un uomo che si mette in ginocchio e prega gli altri, chiede favori, chiede consigli di continuo eccetera eccetera, tuttavia laddove necessitasse, questa volta sono disposto a fare un'eccezione e prego in ginocchio la Escherz, quindi la BlackRock, prego sempre in ginocchio la X-Trackers, quindi la DWS, di fornirci un ETF che vada a replicare veramente esattamente l'indice MSCI World Quality Index, ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale, un'idea potrebbe essere quella di non so inondarli di email, magari anche una raccomandatina con ricevuta di ritorno, magari ci sentono, ci ascoltano, si illumineranno, chi lo sa, Come mai questo video ragazzi? Perché vi ho raccontato precedentemente come in realtà se tu che mi ascolti investi in un bel World Quality non stai investendo nel vero quality, quindi ti rimando al video per esserne davvero consapevole, magari lo ripassiamo qui 30 secondi e vi vado adesso a condividere esattamente le performance storiche degli ultimi 30 anni di quel vero indice, E poi diciamo che mi rivolgo a questi signori e non ad altri perché hanno creato loro il World Index Quality, diciamo come ETF, ma il sector neutrale, è quello neutral, quindi è quello il problema. E poi adesso hanno creato dei nuovi quality da pochi mesi, però li andremo ad affrontare nel prossimo video, così io chiudo la saga quality e poi passiamo ad altri discorsi. Nuovi quality con criteri ESG, però come ho detto li esamineremo successivamente. Io vi vado a condividere lo schermo del mio computer e vi avevo una buona visione a, ma vi volete iscrivervi al canale oppure no? Perché guardate i miei video e non vi iscrivete al canale? Lasciate un bel like se lo desiderate, buona visione! Ed eccolo qui le video in questione che pubblicavo qualche giorno fa, l'ETF World Quality non è un vero quality, quindi andatevelo a recuperare laddove non lo aveste ancora visto. Ma spostiamoci nei documenti, ovvero nei fact sheet che ci mette a disposizione la MSCI e quindi vediamo un po' questo indice. Quando noi ci scegliamo gli ETF della X-Trackers o della X-Shares che hanno anzi il nome di World Quality, in realtà vanno a replicare questo indice. Come vi spiegavo alle paroline magiche Sector Neutral, praticamente vi ha una maggiore diversificazione settoriale. Il Quality, nudo, vero e puro e crudo, praticamente va a individuare invece quelle aziende che hanno maggiori criteri di qualità al di là del principio cerco di diversificare il più possibile a livello settoriale. Se le aziende sono concentrate su pochi settori, chi se ne importa? Il principio è cavalcare le aziende più qualitative del nostro tempo. Ora, vediamo la performance e andiamola quindi a confrontare fra quello che ha il principio di neutralità settoriale, che sono gli ETF che abbiamo oggi a disposizione. Io vedo che negli ultimi 10 anni ha registrato un ritorno annualizzato fantastico, ragazzi, del 10.22 per un mondiale veramente tanta roba. Dalla nascita di questo indice, quindi 1998, comunque un ritorno del 7.55. Io ora vado qui a scorrere così possiamo vedere qual è la componente della top 10 e poi anche il peso dei settori e dei paesi, intendo delle nazioni. Così ora mi vado a spostare sul World Quality Index e cerchiamo di vedere le differenze. Innanzitutto, in 10 anni, vedete qui, ha prodotto negli ultimi 10 anni un ritorno annualizzato del 13.05, ragazzi, 13% contro 10. Ma prendetevi un calcolatore di interesse composto e aggiungete 3 punti percentuali ogni anno al vostro investimento. È qualcosa di incredibile. Non è detto che sarà sempre così, ma intanto è successo ed è veramente straordinario. E anche qui, dalla sua nascita, 94, viaggia a un 11.81. È clamorosa questa media per un mondiale. È clamorosa. Andiamo a vedere altri dettagli. Ad esempio, qui, il PE è 25.96. Andiamo a vedere con, invece, quello neutrale. Vedete, 23.11. Quindi effettivamente più ci spostiamo verso la qualità e più sono care queste aziende. Cioè il principio, come in tantissimi aspetti, della vita che la qualità si paga. E ascoltavo alcuni studiosi che affermavano che è una sorta di anomalia per quelli che sono i principi statistici e anche le efficienze di mercato. È come se fosse una sorta di inefficienza che conferma la regola, quindi un'eccezione che conferma la regola. Perché è assurdo che essere investiti sempre in aziende care rispetto al mercato ci vada a portare una sola performance qui praticamente permanente. Perché è da 30 anni che funziona così. Da quando è stato concepito questo indice. Ma in realtà è un principio che funziona. Lo sappiamo grandi investitori come Fisher, come Charlie Munger e poi di seguito Warren Buffett. Hanno sposato questo principio di dire, ok, sono disposto a pagare un po' di più ma voglio avere la qualità. Quindi non solo rispettare una metrica a valio. Se io poi vado qui a scorrere, ragazzi, voglio confrontare la top 10. Guardate, è molto simile in realtà, vedete Nvidia, Microsoft, Meta, Apple. E se io vado qui su quello neutrale, praticamente una composizione è quasi uguale. Quello che noto è che la top 10 a livello di costituenti su quello neutrale pesa un 31%. Mentre sul quality vero e puro un 36.15%. Questo significa maggiore concentrazione sulle aziende più qualitative. E se io vado qui a livello di settore, sono convinto che ci sarà maggiore concentrazione settoriale. Infatti, osservando, leggendo il classico quality, ho un Information Technology al 33.79% e un Healthcare al 17.85%. Se vado su quello neutrale, caliamo per quanto riguarda l'Information Technology a un 25.11% e il Healthcare a un 12.17% e neanche al secondo posto ma al terzo. E i finanziari qui si trovano al secondo posto. Quindi c'è una bella differenza in realtà. Non eclatante, ma abbastanza significativa per produrre una sovra performance che nel lungo termine si trasforma in qualcosa di estremamente rilevante. Perché va bene, un 2-3% in un anno, poca differenza, ma tutti quanti gli anni è veramente clamoroso. Magari poi ci andiamo a vedere insieme che differenza può significare sul lungo periodo. Perché molte persone non si rendono conto della forza dell'interesse composto. Poi qui io leggo sul neutrale, ad esempio, un 71% Stati Uniti e invece qui vedete un 74.89% sul World Quality Classico, quello vero. Quindi maggiore concentrazione sugli Stati Uniti d'America. Perché in questo momento, nella nostra epoca, lo hanno meritato. E pertanto ragazzi, io insomma vedo delle performance incredibili, nessuno ci assicura niente, ma sarei disposto, ben lieto, a cavalcare questo indice nei miei portafogli, dove vado a differenziare su vari strumenti, ma siccome ho scelto anche questo fattore, vorrei quello vero e proprio. E guardate, va a distruggere anche il momentum. Difatti, questo è il momentum mondiale. Negli ultimi 10 anni è un 11.58, e dal 94, quindi praticamente è stessa data di nascita del quality, un 11.15 contro un 11.81. Quindi performance abbastanza simile, ma comunque inferiore da parte del momentum, e sugli ultimi 10 anni non c'è stata storia, perché ha viaggiato a due punti percentuali in meno annualizzati. Quindi veramente tanta Roma. Adesso invece mi sono spostato su dossier.net, perché voglio fare questo esperimento con voi. Lo sappiamo, non è detto che anche in futuro sarà così, ma siamo onesti con noi stessi. Quando scegliamo un asset allocation, quindi che sia un 60-40, un 50-50, oppure siamo 100% azionari, vogliamo l'MSC World tradizionale, vogliamo l'SMP 500, quindi qualunque siano le scelte. Noi ci basiamo sugli ultimi 20-30 anni e diamo per scontato che nel futuro accadrà qualcosa di simile, perché tanto non possiamo fare di meglio, cioè questa è la realtà dei fatti. Allora, se io metto percentuali di interesse anno 10, vedete, durata di 10 anni, e ho investito 10.000 euro, dopo 10 anni ottengo 25.000 e 9. Ma se io metto 13, dopo 10 anni ottengo 33.000 e 9. Sono tante e tante migliaia di euro, cioè c'è una differenza enorme. Voi immaginate su 30 anni, mettiamo caso che uno mette questi 10.000 quando ha 37 anni e a 67 in pensione vuole vedere il risultato e è riuscito per sua fortuna a vivere un trentennio fantastico, no? Comunque con la differenza di 3 punti percentuali, potremmo anche dire, mettere anche 10 e 7, 11 e 8. Ora qui abbiamo scelto 10 e 13, però per far vedere la forza, la potenza, se riuscissimo a vivere dei decenni simili a quello trascorso. Allora, se io metto 10% su 30 anni ottengo 174.000, veramente tanta roba. Vedete perché uno qua deve investire, ragazzi? Cioè, voglio dire, 10.000 nel cassetto fra 30 anni, boh, che ci compreremo? Non lo so, forse ci facciamo un weekend fuori. E va bene, magari qualcosa di più, è assai meglio avere 174.000, che sicuramente varranno meno di oggi, però, sapete, 17 volte, 18 volte di più, insomma, quello che è, non male. E qui andiamo a mettere il numero 13, ok? 391.000, cioè capite la differenza del 3% annualizzato? Ve lo ripeto, non è assolutamente detto che sarà così, per carità. E io comunque volevo farvi intendere come questi 2-3 punti percentuali in più potenziali possono cambiare tanto. Mettiamo anche che invece di 3 punti siano 2 punti in più. Invece di 175, comunque 300.000. 299, 599. Per interesse composto, 2 punti percentuali in più rispetto al 10%. Vedete, otteniamo un risultato finale che è il doppio rispetto a quello precedente. È veramente fantastica. La magia dell'interesse composto, infatti, vige anche qui il principio sacro che si sottovaluta quello che possiamo ottenere nel breve termine. Anzi, scusate, volevo dire, si sopravvaluta magari quello che vogliamo ottenere nel breve termine. Invece si sottostima quello che potremmo ottenere nel lungo termine. Ed eccoci qui giunti alla conclusione del video. Ovviamente, come dico sempre, il futuro non farà arima necessariamente con il passato. Quindi non è detto che questo quality renderà sempre di più del mercato, insomma, quello classico di riferimento, il benchmark, il world tradizionale. Tuttavia, io comunque il rischio sarei pronto ad assumerlo. Quindi, per favore, mi create questo ETF perché non lo fate, non ha senso. Bene, ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti. Io vi do appuntamento a prestissimo. Nel frattempo, lo sapete, vi auguro il meglio nella vita e negli investimenti. Ciao!